Israele resta un paese di grande interesse, non solo nella quotidianità ma in particolare quando ci sono le elezioni politiche. Questo Istanbul dà un po' il senso di un paese attraverso la voce dei suoi protagonisti. Quindi si parla non solo dell'ultimo voto di dieci giorni fa, l'ultimo voto politico che rilancia Benjamin Netanyahu per la quarta volta premier alla guida del 34esimo governo da quando è nato lo Stato di Israele nel 1948. Ma protagonisti della vita politica, sociale, intellettuale, militari, le voci di Israele perché resta quel territorio un punto di grande osservazione per gli equilibri politici nell'area medio orientale a luce anche di tutto quello che sta accadendo se guardiamo la Libia, la Tunisia fino all'Egitto e il conflitto che c'è con la Siria e i paesi vicini, lo Stato islamico e quello che è il pericolo anche iraniano attraverso un rapporto sempre più difficile con i paesi europei e con gli Stati Uniti. Un libro che vuole dare il senso attraverso la voce dei protagonisti di un paese che sta cambiando, è vero che si rivolge anche e ancora a destra perché Netanyahu è un esponente di destra, tutti pensavano ci potesse essere un cambiamento, un voto di centrosinistra, però è anche vero che hanno votato più elettori rispetto a due anni fa è vero che il voto arabo avrà per la prima volta, il voto arabo israeliano, una presenza massiccia al Parlamento, alla Knesset e con questo bisogna fare i conti è vero che un paese dove sbagliare una mossa, sbagliare qualcosa può far cambiare subito gli equilibri. Resta il grande tema della questione palestinese sullo sfondo che è stata amplificata da Netanyahu in campagna elettorale anche con parole forti ma se il prossimo premier di Israele vorrà diventare un grande statista riconosciuto nel mondo così come sono stati gli ultimi da Sharon a Rabin è anche vero che dovrà fare i conti non solo con il governo di Israele ma anche con la risoluzione dello Stato palestinese con una pace possibile attraverso lo slogan che va attuato di due stati e due popoli. Ecco è un po' con i sassi alle porte come si dice da noi in Toscana e il premier perché dovrà non solo governare un paese ma dovrà anche governare una di quelle questioni risolte dal 1947 dalla risoluzione ONU non applicata due popoli due stati si diceva anche allora gli israeliani fecero il proprio Stato l'anno successivo con Ben Gurion i palestinesi no sbagliando ma è anche vero che da allora questo va risolto e un compito di un primo ministro un primo ministro di una realtà così importante è quello di fare questo con l'Europa e con gli Stati Uniti in un quadro diciamo di collaborazione come anche i parlamenti degli Stati europei gli hanno chiesto il mese scorso e come anche il Parlamento europeo si è manifestato di recente e come anche il Presidente degli Stati Uniti più volte Barack Obama gli sta in qualche modo dicendo. Ecco tutto questo si trova in questo libro attraverso le voci dei protagonisti attraverso le voci di coloro che vivono, lavorano e sono classe dirigente in uno Stato così complesso ma affascinante come Israele.